Ricomincio da Piazza d'Armi, questo è il tema del convegno che si svolgerà a Nola il 12 marzo per consentire alla popolazione della cittadina di prendere conoscenza della situazione complessiva inerente Piazza d'Armi, urbanistica, architettonica, politica e ricompresi eventuali progetti in corso. Il convegno è stato inserito nella programmazione CFP. Con il patrocinio degli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri interverranno il professore architetto Salvatore Visone, presidente dell'ordine degli architetti di Napoli e provincia, e il dottor ingegner Luigi Vinci, presidente dell'ordine degli ingegneri di Napoli e provincia. Nel corso del convegno saranno resi noti gli esiti di un questionario somministrato alla cittadinanza a cura dell'architetto Martina Bosone, Movimento Piazza d'Armi. Una delle ambizioni è quella di accogliere qualsiasi cittadino o visitatore in una piazza piena di verte, magari occupata da un centro sportivo e da una pista ciclabile senza sognare chissà cosa. Il Movimento Piazza d'Armi è un'associazione che si è costituita a fine novembre 2015 mettendo insieme numerose persone che hanno a cuore il proprio territorio. Ricomincio da Piazza d'Armi perché non potevamo non iniziare ad interessarci al nostro territorio con un tema così caro a noi nolani che è la riqualificazione di una piazza di circa 75 mila metri quadrati che ha grosse potenzialità ma purtroppo oggi è caratterizzata da un degrado urbanistico e architettonico. Noi con questo evento metteremo insieme una serie di professionisti e rappresentanti delle autorità locali, regionali e nazionali proprio per sapere a quale destino andrà incontro questa piazza.